Torniamo a seri perché c'è la persona più seria delle periferie milanesi, il presidente della consulta periferie milano, Walter Cherubini qui con noi. Buongiorno Walter. Buongiorno e ben ritrovati. Perché le periferie sono una questione seria, non una roba così da prendere sempre un po' così con lo storytelling, quella roba lì che a noi non piacciono più tanto, cioè a di andare poi al sodo della questione, giusto Walter? È come la vita e poi un libro, insomma scrivere un libro è abbastanza interessante, siamo anche nel periodo in questi giorni di Book City e quindi di libri ne vengono scritti una marea. Iniziative sono anche interessanti anche se poi rimandano di anno in anno. Il tema di fondo è che la vita invece è una continuità, una continuità fatta di elementi positivi, di elementi negativi, di vita vissuta. Ecco allora che generalmente la viviamo anche in una comunità. Allora questa comunità è un po' il centro della questione. Da questo punto di vista c'è un'intervista di qualche giorno fa ad Alessandro Balducci, che è stato prorettore del Politecnico di Milano e anche per un certo periodo breve assessore all'urbanistica del Comune di Milano. E all'interno di questa vicenda delle città fa una sottolineatura. Città, progetti dal basso. Sì. Ecco, questo qui un pochettino, questo dal basso, vediamo quali sono le condizioni perché anche questo basso possa avere un rilievo. Altrimenti, come spesso accade, stiamo parlando di città, metropoli come Milano, ci sono tantissime iniziative che partono dal basso e al basso rimangono. E non diventano invece vettore per la città. Perché mi sembra che da anni noi raccontiamo di situazioni che dal basso nascono e come. Cioè, appunto, ce ne sono tantissime iniziative dal basso e che poi rimangono nel basso. Cioè non riescono a fare quel passetto in più per invece diventare anche generative per magari tutta la città poi. Esattamente. E uno degli altri temi che viene posto è quello della comunità. Allora, sulla comunità in questo momento non sto a raccontarla. Ma voglio solamente citare, dato che siamo nel periodo di Book City, un libro che mi sembra abbastanza interessante da questo punto di vista perché entra nell'analisi strutturale di come generare comunità alla luce di un'esperienza però fatta sul campo, in particolare nel Bresciano, da Stefano Sarsi Sartori che ha scritto qualche tempo fa il libro Comunità e democrazia nei quartieri. Noi abbiamo molto enfatizzato in questo periodo il tema dei quartieri. Però un conto è enfatizzare la parola quartieri, un conto è costruire e anzi individuare gli strumenti per costruire delle comunità, anzi il quartiere che sia una comunità. Tutto un percorso da imparare perché l'evidenza dei fatti dimostra che purtroppo queste aspirazioni non hanno trovato una rispondenza, se non piccole isole ma che non modificano l'ambiente della città, benché vada, così diciamo che arricchiscono alcune piccole macchie di leopardo all'interno della città e chi sta bene sta bene e chi non sta bene continua a non rimanere bene. Ecco questo qui è un pochettino il punto da affrontare. Il tema appunto non è per niente semplice, mi dicevo prima, e va affrontato seriamente. Quali potrebbero essere però appunto le modalità per riuscire a sviscerare questa problematica appunto e magari finalmente riuscire a risolvere? So che insomma ti ho chiesto la ricetta della Coca-Cola, ti ho chiesto in un certo senso. Ma la prima cosa che bisogna affermare è la continuità, nel senso che noi non possiamo pensare di affrontare qualsiasi tema in maniera episodica. Facciamo una tre giorni e poi ci rivediamo fra un anno e due a fare ancora una tre giorni. Ci sono veramente, mettiamoci nella logica dei ricercatori. La logica dei ricercatori, uno non è che si mette lì tre i giorni a ricercare e poi vede fra tre anni. Ma c'è un continuo scambio, una pressione proprio osmotica con altri. Qualcosa di strutturale. Esattamente. Allora, per dare continuità bisogna dare anche, diceva un grande educatore, se un'amicizia è vera, si struttura. Se io sono ai tempi scolastici, ho capito, se il tuo vicino di banco ha problemi, non riesce a capire determinate cose, gli puoi dire, sì, io ti sono vicino. Sì, però se ti metti a studiare assieme, forse, ecco, e non solamente così casualmente, ma dici, va bene, tutti i martedì ci troviamo a studiare quel diavolo di teorema che non riusciamo bene a comprendere. Ecco che allora tutti i martedì ci si ritrova. E' un po' il tentativo che stiamo facendo, stiamo riprendendo con la scuola di periferia. Ma ne parliamo sicuramente. Ne parliamo dopo, intanto andiamo con un po' di musica. E bentornati a Crystal Radio, bentornati con Walter Cherubini, consulta periferia Milano. Walter, ci hai portato appunto un articolo di giornale, no, quest'oggi? Sì, diciamo che è un punto di riferimento, anche perché è abbastanza interessante. Poi è legato anche a un'iniziativa, di cui accenneremo dopo, ieri, oggi e domani, della Fondazione Fentrinelli, che presenta il 47esimo annuario sulla vicenda delle città. Ecco, in questa intervista, tanto per rimanere al nostro tema, cosa dice Balducci? La domanda è, si tratta di sfide che le città singolarmente non possono vincere, è la domanda. E per questo Balducci dice, per questo la Commissione europea da anni invita gli stati membri a dotarsi di un'agenda urbana, per cui le periferie diventerebbero una questione che i sindaci non dovrebbero affrontare da soli. Le città sono state il motore di sviluppo di un secolo detto, non per caso, urbano. Ecco, questo è il tema. Molto spesso noi, come cittadini, deleghiamo a chi chiamiamo a rappresentarci la soluzione dei problemi. Ma se ci allacciamo a quello che diceva Renzo Piano, e cioè la periferia è la città che sarà o non sarà, è chiaro che la città la facciamo tutti quanti. Allora, il problema di fondo, Balducci pone anche il tema di iniziative poste dal basso. Ecco, ma queste iniziative poste dal basso devono avere anche un'interlocuzione amministrativa e da questo punto di vista l'articolazione, la struttura organizzativa delle amministrazioni comunali in generale e in particolare di quella di Milano non è organizzata per aiutare dal basso. Noi abbiamo dei municipi che sono vuoti, anche perché siamo un po' monotomatici oggi, ma riprendiamo sempre il pensiero di Balducci. Balducci fa una sottolineatura nella, diciamo così, premessa al libro Il governo della città complessa, verso una nuova formazione, dove dice l'attrezzatura culturale e tecnica di chi amministra le città è rimasta la stessa con le sue settorialità, con le sue piante organiche, le sue strutture formate da competenze separate. Questo è il tema di fondo. Nel momento in cui noi vogliamo generare comunità e ragioniamo in termini strutturali con competenze separate, è una contraddizione in termini. Questo è il tema che spesso poi andiamo a affrontare, quello appunto dei comparti che non si parlano tra di loro e anche della distanza dei comparti poi dalla vita quotidiana di tutti noi. Distanza, ma noi pensiamo per esempio su un territorio, operano, nella nostra articolazione cittadina, noi siamo articolati in nove municipi. Nove municipi che, badiamo bene, hanno popolazione, il municipio più densamente popolato, anzi più popolato è il municipio 9, che sta a nord di Milano, e ha tanta popolazione, oltre 190.000 abitanti, come Brescia. Il municipio invece che ha minore popolazione è il municipio 5, che sta a sud, e ha oltre 120.000 abitanti, come Bergamo. Allora, noi abbiamo questi municipi che, nelle intenzioni di chi ha introdotto il decentramento amministrativo a Milano per una città policentrica, per un governo della città policentrica, nel 68-69, aveva individuato come governo del territorio complessivo. Ecco, noi siamo in una situazione dove ci sono numerose funzioni comunali, settori comunali che operano, dalla polizia locale agli asili nido, cioè abbiamo proprio tantissime realtà che operano ciascuna separata dall'altra, ecco, sul medesimo territorio. Ecco che allora, se noi non individuiamo un elemento organizzativo che faccia da raccordo sul territorio, poi è inutile che parliamo di quartieri. È una vana speranza infondata, perché gli mancano proprio l'ABC amministrativo, dove l'amministrazione non è tutto, ma è al servizio di tutto. Ma se l'amministrazione non è organizzata bene, capite che il servizio non lo farà mai. Valdro, per capire bene e imparare queste cose, c'è la scuola di periferia, giusto? Dai, un minuto sulla scuola di periferia, che poi dobbiamo già salutarci quest'oggi. Allora, dobbiamo assicurare la continuità di riflessione, di coinvolgimento, e per quello che abbiamo ripreso dopo la pandemia, abbiamo strutturato un percorso che preliminarmente ha alcuni appuntamenti in questo scorcio d'anno. Ieri a Quartogiaro, questa sera a Niguarda, successivamente sarà Lambrate, poi allo Stadera, e poi anche tematico a Bruzzano sul decentramento, piuttosto che a Quarto Cagnino sulla comunicazione e l'informazione territoriale. Proprio il tentativo è quello di mettere a fattor comune chi opera sul campo associativo, di comitati, chi si interessa alla vita della città, con chi nelle istituzioni si interessa nella vita della città e quindi farli dialogare in maniera continuativa. Noi pensiamo, senza fogare nessuno, di fare in ogni luogo cinque appuntamenti bimestrali, ma proprio perché durante l'anno ci si ritrovi e si assicuri una continuità strutturale a fare che cosa? A vedere come gli apporti che ci sono sul territorio possono contribuire con una connessione però cittadina, perché altrimenti se si rimane sempre a livello di singolo territorio non si va avanti. Bisogna avere un livello cittadino, un livello cittadino, il collegamento, c'è il tavolo periferie Milano che si riunisce mensilmente, ospitato dalla presidenza del Consiglio Comunale di Milano, con varie organizzazioni cittadine però diramate sul territorio. Ecco che allora si crea questa connessione tra chi lavora sul territorio e cerca di affrontare anche tecnicamente le problematiche, a partire anche dal decalogo delle periferie per ripartire e dove se mettiamo il primo punto è esattamente il tema del decentramento e i municipi, uno degli altri temi che abbiamo cercato di affrontare nella logica della rigenerazione socio-abitativa è per esempio quello delle case popolari, dove se rimaniamo sempre all'intervista di Balducci si è cercato di fare un tentativo anche sui prezzi delle case eccetera, con l'housing sociale che però non ha risposto alle attese il tema della rigenerazione sociale, quindi è da rivedere. Ecco però, dobbiamo fare una riflessione che parta dalle periferie, non che arrivi se riesce dalle periferie. Il decalogo per ripartire, giusto? Il decalogo dalle periferie per ripartire. Magari settimana prossima vi diamo un po' questi 10 punti, che dici Walter? Potrebbe essere una buona idea, no? E allora io ti ringrazio Walter anche quest'oggi per averci portato in periferia e aver raccontato bene e seriamente qual è il tema delle periferie.